Vittorio Foa per la sua attività antifascista sconterà otto anni di carcere. Liberato dopo il 25 luglio 1943, diventerà insieme alla Malfa, Lussu e Spinelli segretario del Partito d'Azione e ne sarà il rappresentante nel Comitato di Liberazione Nazionale, prendendo parte attiva alla lotta di liberazione. Nel 1946 è eletto tra i padri costituenti, contribuendo attivamente all'elaborazione della nostra Carta Costituzionale. Vice segretario nazionale della CGL a fianco di Giuseppe Di Vittorio, segretario nazionale della FIOM, svolgerà anche un'intensa attività politica prima nel PSI, poi nel PSIUP. Infine, come senatore indipendente, eletto nelle liste del PC, senza mai rinunciare all'elaborazione teorica, con la pubblicazione di numerosi volumi che hanno contribuito a formare intere generazioni della sinistra italiana. Esponente di primo piano di Giustizia e Libertà, Alessandro Galante Garrone sarà nel 1942 tra i fondatori del Partito d'Azione a Torino e dal 1943 dirigente della Resistenza in Piemonte. Entrato in magistratura subito dopo la laurea, percorrerà l'intera carriera forense fino al ruolo di consigliere di corte d'appello a Torino. Contemporaneamente continuerà a coltivare i propri studi storici, diventando uno dei più autorevoli studiosi del pensiero radicale italiano e delle correnti rivoluzionari e risorgimentali. Continuano a fare scuola i suoi testi su Filippo Buonarroti, su Felice Cavallotti e sulla rivoluzione francese. Come collaboratore stabile del quotidiano La Stampa, continuò a tenere vivo lo spirito radicalmente democratico dell'antifascismo azionista, ben testimoniato da testi come I miei maggiori o Il mite giacobino. Giulio Einaudi sarà il fondatore, appena ventenne, della casa editrice che porta il suo nome e che presiederà ininterrottamente per 64 anni, dal 1933 al 1997. Viene ricordato come uno dei più importanti editori italiani del Novecento. Di lui Bobbio ha detto che ha avuto anzitutto il grande merito di avere fondato e impostato una casa editrice cripto-antifascista che continuava la tradizione torinese che aveva avuto per capo stipite le edizioni gobettiane. La marca editoriale della casa editrice raffigura uno struzzo che stringe un chiodo nel becco e la scritta Spiritus Durissima Coquit, a significare la capacità della cultura di sopportare le sfide più dure. Animatore negli anni 30 della casa editrice Frassinelli, fondatore della casa editrice Da Silva, che dirigerà personalmente dal 1942, Franco Antonicelli scriverà nel 1943, all'indomani della caduta di Mussolini, la prima dichiarazione dei partiti antifascisti torinesi. Esponente di primo piano della Resistenza, prima a Roma, poi a Torino, presiederà il CLN piemontese nei giorni della liberazione. Collaborerà alla fase sperimentale della televisione italiana e sarà tra i principali organizzatori di cultura tra gli anni 50 e gli anni 60, contribuendo alla nascita dell'Unione Culturale e dell'Istituto Storico della Resistenza in Piemonte. Eletto senatore indipendente nelle liste del Partito Comunista, svolgerà un'intensa attività politico-culturale tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Il suo spettacolo, Festa Grande d'Aprile, è tuttora ricordato come un contributo di primo piano al teatro civile italiano. I suoi scritti brevi per la radio e la stampa quotidiana, raccolti in numerosi volumi, costituiscono un esempio di formazione etica e politica permanente. Però il primo ricordo che io ho di Goverti è quando Umberto Cosmo, che ti ha ricordato, venne in classe con il giornale che era appena uscito, la stampa che era appena uscita, e disse, devo darvi una tristissima notizia, vedo sul giornale che è morto improvvisamente a Parigi, dove si era recato pochi giorni fa, un mio caro allievo, forse il più illustre dei miei allievi, Piero Gobetti. Io ho sentito il mio amore. Piero Gobetti, voglio ricordarti che Augusto Monti, quando commemorò Gobetti dopo la morte, ricordò un episodio della vita di Licurgo, narrato da Plutarco, Monti era professore di lettere classiche. Licurgo è il legislatore di Sparta, il nomoteta, che dopo aver dato le leggi al suo paese, si allontana, va in esilio, non dice dove va e raccomanda ai suoi cittadini, voi dovrete osservare queste leggi che vi ho dato, sino a che io non sarò tornato e non torno più. Monti aggiunge, noi dobbiamo fare lo stesso con Gobetti. Gobetti si è allontanato, non tornerà più, sappiamo che non tornerà più, ma dobbiamo essere fedeli a quello che lui ci ha insegnato. Io ai miei scolari, a quelli di Torino, a quelli più miei, Pavese li rappresenta tutti, ho dato una cosa che potevano benissimo trovare da sé, la lettura dei classici, e una cosa di cui avrebbero benissimo potuto fare a meno, la politica, l'antifascismo. Essi a me hanno dato infinitamente di più, mi han dato la mia vera vita, mi han dato la loro vita. Grazie. 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 Grazie.